Bentornati sul canale, cari amici! Oggi ci facciamo una chiacchierata tranquilla ed informale e racconterò di tematiche piuttosto delicate e personali. La prima cosa che devo annunciare è che sono tornato single da un paio di mesi. So che qualcuno di voi penserà, ma no, ma come eravate così carini insieme? E sì, sono d'accordo, però quello che succede all'interno di una coppia lo sanno solamente le due persone della coppia. Quindi per quanto voi possiate vedere dall'esterno le due persone sono carini, felici, spensierate, eccetera, eccetera, voi vedete solamente quello che loro fanno vedere, solo l'involucro esterno. Tutto quello che c'è dentro rimane personale, rimane privato e quindi a volte le cose non vanno bene anche quando sembrano andare bene e viceversa. È stato un passaggio bello tosto quello da passare da due anni di convivenza 24 ore su 24 a essere da solo, a parte Brina. Una delle cose che non riesco ancora bene a capire nella mia emotività è se mi manca, nello specifico, la ragazza con cui sono stato due anni o se semplicemente mi manca in generale una persona accanto, qualcuno con cui uscire, qualcuno con cui andare a cena, con cui andare a fare le gite fuori porta, eccetera. Anche quando adesso magari mi metto a guardare possibili viaggi futuri, possibili posti che mi piacerebbe andare a visitare, abbandono in fase organizzativa e lascio stare perché dico ma cosa cavolo ci vado a fare da solo? Cioè se non ho la ragazza è come se fosse tutto inutile, fosse... non lo so. Ed è strano perché questa cosa a me in passato non fermava. Se c'era qualcosa che volevo fare la facevo punto e basta anche senza la ragazza. Sono anche andato per dire in America un mese per i cavoli miei o cose del genere. Invece adesso mi risulta un po' più complicato e mi vengono in mente le parole di Rino Gaetano nella canzone che fa Tu, forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. Fatto sta che una di queste sere in cui ero a letto da solo e non riuscivo a dormire e mi settivavo solo, ho reinstallato Tinder. Io con Tinder in generale ho avuto sempre un buon rapporto. Anche la mia ultima relazione di due anni è nata grazie a Tinder. E quindi ho detto, vabbè, riproviamoci. Ho fatto rapidamente il mio profilo, mi sono messo a swipare, eccetera eccetera, all'età di 39 anni, tornare su Tinder. Sì! In ogni caso se qualcun'altra volesse presentare la sua candidatura ho aperto un'email che si chiama Luca Rigoli Nuova Ragazza chiocciolagmail.com mandatemi le vostre candidature con foto. Sto scherzando, non esiste quest'email. Oppure esiste. In ogni caso, dopo un po' mi sono accorto che un po' di match li avevo fatti. Tutti con ragazze rigorosamente asiatiche attorno ai 28-32 anni. Fighissime! Tra l'altro queste ragazze mi chiedevano immediatamente il mio numero di telefono per passare a chattare su WhatsApp. Ho pensato, wow, c'è un feeling pazzesco. Immediatamente vogliono già avere un rapporto così, un po' più diretto, un po' più personale. Non più su Tinder ma su WhatsApp. Ho detto, cavolini! Sono stato fuori dal gioco per due anni e mezzo, eppure torno e sono ancora come Fonzi. Porto avanti le mie conversazioni con tutte in parallelo per qualche giorno e poi non posso non notare che ci sono delle coincidenze bestiali nelle loro storie, in quello che mi raccontano. Quasi tutte sono figlie miste. Mi raccontano di avere, non so, papà malese, mamma cinese, oppure papà olandese, mamma filippina, eccetera. Sono, boh, quasi tutte miste. Mi raccontano che le loro ultime relazioni sono finite perché l'ex ragazzo era un drogato e le aveva picchiate. E infine hanno tutte una straordinaria passione per le cripto. Una di loro in particolare mi racconta che qualche tempo fa ha scoperto una piattaforma che le ha cambiato la vita. E allora, visto che avevamo un certo rapporto, chiacchieravamo in maniera normale, io gli ho chiesto, beh, dimmi di più, che cos'è questa piattaforma? Fammi dare un'occhiata, sono curioso di natura. Allora lei cerca di spiegarmi un meccanismo strano di una piattaforma che ti dà delle commissioni quando tu inserisci delle pubblicità di Amazon, cioè qualcosa che non ha assolutamente nessun senso, e a un certo punto mi dice il sito, mi dà una username, una password, dicendo guarda Luca, queste sono la mia username, la mia password, entra pure con il mio account, così gli dai un'occhiata e mi aiuti a raccogliere i soldi facendo dei click sul sito. E ho detto va bene, diamo un'occhiata. Vado sul sito, metto la sua user ID, metto la password, esce una finestrella di caselline luminose, come se fosse un videogioco, devo semplicemente cliccare su una scritta che dice grab, appaiono poi foto di prodotti Amazon con una presunta commissione che ho guadagnato semplicemente per avere fatto un click, un tap sul telefono, e nel giro di un minuto avevo guadagnato 7,50 euro, una roba del genere. Al che mi sono detto, qui c'è qualcosa di strano, com'è possibile che una piattaforma ti voglia dare dei soldi semplicemente per fare tap 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 dieci volte? Non ha nessun senso. Allora, dopo averci pensato, dopo aver fatto qualche ricerca, il giorno dopo gli ho detto, cara mia, io ti consiglio di ritirare i tuoi soldi da questa piattaforma il più rapidamente possibile, perché questo secondo me è uno schema Ponzi. E lei mi ha detto, che cos'è uno schema Ponzi? E magari anche voi vi stareste chiedendo, che cos'è uno schema Ponzi? Lo schema Ponzi è una truffa in cui praticamente tu dai dei soldi al truffatore che ti promette di avere un guadagno, il truffatore ti dà questo guadagno promesso nel tempo, facendoti credere che le cose stiano andando alla grande, la voce si sparge, arrivano altri investitori che mettono altri soldi e quindi il truffatore riesce a pagare gli interessi e i premi a tutti quanti fin tanto che arrivano nuovi truffati che mettono il loro capitale. Lo schema Ponzi smette di funzionare quando smettono di arrivare nuovi polli e o quando tutti quanti decidono di ritirare i loro soldi. Quindi in teoria se tu sei uno che sei entrato in uno schema Ponzi, hai avuto dei guadagni iniziali e riesci a incassare e tirartene fuori prima che cada tutta la baracca, potresti anche uscirne in positivo. E siccome questa piattaforma che lei mi ha fatto vedere mi sembrava proprio uno schema Ponzi, gli ho detto, fantastico, hai vinto, ti è andata bene fino adesso, prendi tutto e tiratene fuori, perché questo è un castello di carte. Dopodiché la conversazione con lei è andata avanti per un po', ma abbiamo anche fatto una videochiamata di 10 secondi, quindi io so che lei era una persona reale, corrispondeva alle sue foto, era veramente lei, poi però insomma io ho perso interesse, quindi l'ho mollata lì. Era una truffatrice? Il suo scopo era tirarmi dentro questo sito? Può essere, non lo so. Cioè ci sono delle possibilità che lei fosse una truffatrice, ci sono delle possibilità che questa sia una grandissima coincidenza. Anche perché le altre ragazze con cui ho parlato mi hanno parlato di sistemi diversi, piattaforme diverse e in generale avevano un'attitudine diversa e non sono mai riuscito a vederle in una videochiamata. Altra particolarità era che anche se nella localizzazione di Tinder erano tutte a un chilometro da casa mia, in realtà dicevano eh no, io vivo in Svezia, io vivo in Germania, io sono in Regno Unito, però abbiamo in programma, tutte quante avevano in programma di venire a Milano nel giro di un paio di settimane, un mese, durante l'estate, sì sì, arriverò, ci vedremo. Adesso però è impossibile perché sono via per lavoro. E' incredibile, però intanto la localizzazione diceva che eravano qua. Quando voi vi azzarderete a chiedere delle prove o contestare le cazzate che vi dicono, vi risponderanno in maniera nervosa, vi diranno ok, allora guarda, se non ti fidi di me preferisco che smettiamo di parlare. A quel punto voi vi aggrapperete alla speranza minima che loro possano essere reali, chiedete scusa, no no, va bene, mi dispiace, non ti volevo far arrabbiare e continuate ad accettare le cose ridicole che vi dicono, le incongruenze, tutte queste cose, perché è così che funziona. Ad esempio, alcune incongruenze che ho notato erano il fatto che mi ha mandato le foto della borsa di Chanel dicendo che l'aveva pagata 1800 euro, quando in realtà costa molto di più, costa tipo 4000 quella borsa. Poi mi faceva vedere delle foto dicendo, sono in macchina, questa è la mia macchina, la mia Porsche, però la guida la mia assistente, perché non mi piace guidare, la macchina aveva sedili rossi, un giorno dopo mi manda un video selfie della macchina che però aveva i sedili neri. Oltretutto lei diceva di essere in Belgio, ma quello che si vedeva fuori dai finestrini non sembrava il Belgio. Poi mi manda video palesamente presi da internet di serata in discoteca dicendo sono al club, mi faceva sentire la musica, ma erano le 8.50 di sera, io non credo che ci siano scene del genere alle 8.50 di sera in Belgio. Una volta a uno ho chiesto cosa stava facendo, mi ha detto che stava lavorando, gli ho detto dai mandami una foto, fammi vedere dove sei. Mi arriva una foto palesemente presa da internet, che c'era anche il copyright dell'immagine, glielo faccio notare, a quel punto questa mi blocca, chiude, perché insomma aveva capito che non mi sarei fatto fregare, aveva capito che avevo sgamato, che era fake. Un'altra aveva una foto di Venezia e io gli ho detto ah bella questo posto, dov'è che è? Dimmi la città specifica in cui hai fatto questa foto. E lei all'inizio ha cercato di dire Italia, poi quando ho chiesto proprio insistendo ma no, ma in che città? Roma. Ho detto va bene, ok, ciao. Quindi diciamo che molte di loro sono quantomeno approssimative e potete sgamare facilmente, ok questo è un profilo fake e andare oltre. altre è un po' più difficile perché se la giocano veramente bene non ti menzionano gli investimenti per una settimana e quindi vai a creare magari un legame, inizi a raccontargli i fatti tuoi, inizi a essere investito nella relazione. Quando tu investi del tempo, dell'energia in qualcosa, poi dopo è come se non volessi quasi accettare con te stesso il fatto che sia fake. e quindi quando ti vedi qualcosa di incongruente sei portato psicologicamente a pensare a possibili altre spiegazioni che lo rendono invece coerente e possibile. La cosa che mi ha aiutato di più è stato il fatto di avere avuto tanti match con tante ragazze simili, copia e incolla tra di loro, che raccontavano storie simili. Se avessi avuto un solo match, un solo caso di ragazza che mi parlava delle criplo, della piattaforma, degli investimenti, chi lo sa? Magari ci sarebbero state più possibilità di essere fregato. Invece il fatto che fossero sei, tutte, con la stessa strategia, mi ha attivato un bel po' di campanelli d'allarme. Tra l'altro ho notato in questi giorni veramente un'invasione di profili. Anche profili che hanno lo stesso nome, foto diverse, ma la stessa descrizione. La cosa però che mi ha fatto in realtà più piacere è che una ragazza, quella che in realtà mi piaceva di più prima di rendermi conto che probabilmente non esisteva, dopo che avevamo chiacchierato tanto, avevo condiviso tante mie cose personali con lei, a un certo punto è sparita e io dopo una settimana di silenzio gli ho chiesto, beh, che fine hai fatto? Mi manchi di qua di là? E lei mi ha detto, guarda Luca, sì, se sono sparita c'è un motivo. Secondo me dovresti rivalutare la tua ultima relazione, magari tornare con la tua ex, lascia perdere Tinder, lascia perdere tutte queste app, veramente, stanne lontano, pieno di persone finte. E io gli ho detto, anche tu, e io gli ho chiesto, ma anche tu sei una persona finta? Vorrei veramente fare una videochiamata con te, vorrei vederti in faccia. E lei mi fa, e se fossi una persona finta anch'io? E io gli ho detto, eh, ti ringrazierei per, in ogni caso, per avermelo detto, per aver capito. E lei mi fa, guarda che comunque hai ragione. Quindi Luca, stai lontano da queste applicazioni. Quindi lei ha più o meno confessato di essere un profilo fake e mi ha fatto capire, tutto sommato, di essere dispiaciuta. E questo mi ha dato un po' soddisfazione, dire, cavoli, ho creato empatia anche nella truffatrice. Quindi, la conclusione... Vieni, vieni. Quindi, la conclusione positiva per questo video è, se volete andare su Tinder e chiacchierare, anche con una truffatrice, va benissimo, divertitevi. Quando però arriverà il momento di mettere dei soldi su delle piattaforme, non fatelo. Brutta. Come? Okay.